ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi questa sera un video che ritengo estremamente interessante perché ognuno di noi che strimpella uno strumento a corde soprattutto chitarre e bassi ogni tanto può avere la necessità di affidare il proprio strumento ad un tecnico ad un liutaio magari per un setup o per una riparazione perché ricordiamoci che comunque sono strumenti simili a quello che può essere un'autovettura o altro che hanno bisogno di manutenzione periodica ogni tanto e allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere due o tre accorgimenti per capire a chi affidare il nostro strumento dovete sapere innanzitutto che oltre a strimpellare io effetto di lavori per pura passione di liuteria di ottimizzazione degli strumenti piuttosto che riparazioni per quanto riguarda principalmente tastiere e setup in genere e mi è capitato ultimamente di dovere anche porre rimedio a qualche lavoro fatto da dagli utai diciamo non proprio a regola d'arte questo video scaturisce un po' da questo tipo di ragionamento e oggi andiamo a vedere due o tre accorgimenti che sicuramente ci aiuteranno ad avere consapevolezza e a capire se vale la pena dare nelle mani di qualcuno il nostro strumento allora un primo step lo definirei uno step ricognitivo ed è quello di aprire bene gli occhi guardarsi attorno per capire se ci sono strumenti in riparazione che tipo di strumenti perché chiaramente un lutaio potrebbe essere bravissimo a riparare e a settare degli strumenti a corda tipo violini violoncelli e altro ma magari non potrebbe avere esperienza su chitarre e bassi elettrici o viceversa quindi accertiamoci che la persona a cui affidiamo lo strumento sia effettivamente una persona che opera su strumenti del nostro tipo altra cosa che assolutamente non guasta è quello di verificare magari sulle pareti se ci sono diplomi o attestati di corsi perché questo dà indicazione di una preparazione tecnica e che assolutamente non guasta come secondo step ma importantissimo secondo me forse più importante è quello di verificare e osservare attentamente nel momento in cui diamo il nostro strumento in mano cosa il liutaio una persona che comunque lavora nel laboratorio verifica come prima cosa dovrebbe verificare su una chitarra l'assetto della tastiera quindi guardare da questo verso se la tastiera è rettilinea magari vede qualche difformità sui tasti mi aspetto poi che controlli il capo tasto l'equidistanza tra le corde e anche l'altezza delle corde del primo tasto e nel caso in cui abbiamo anche magari strumenti con il ponte mobile che controlli l'assetto del ponte verificare se lo stesso comunque si muove liberamente senza attriti nonché una sommaria anche verifica per quanto riguarda l'altezza di pick up mi aspetterei anche che lo stesso mi chieda che tipo di musica suono perché anche lì può esserci una differenza di settaggio tra suonare un determinato genere piuttosto che un altro altro controllo fondamentale che mi aspetto che il liutaio faccia è quello di scandagliare la tastiera magari con i tasti a vuoto però suonarli tutti dal primo all'ultimo per verificare che non ci siano tasti che friggono o magari qualche parte di tastiera che ha un'altezza anomala rispetto alle altre per capire anche lì che tipo di interventi effettuali per ottimizzare il tutto mi raccomando ragazzi fategli provare il vostro strumento se vi rendete conto che il liutaio è in difficoltà o non sa suonare in maniera almeno decente beh è un campanello d'allarme non indifferente che non trascurerei perché quasi sicuramente gli manca anche la sensibilità per capire le criticità del vostro strumento e come intervenire per chiaramente eliminarle o sanarle bene carissimi amici chitarristi siamo giunti al termine di questo video mi auguro che questi piccoli consigli questi piccoli step che abbiamo appena preso in esame possano essere spunto e possano esservi stati d'aiuto mi raccomando nel momento in cui mai doveste aver bisogno di un liutaio accertatevi che lo stesso sia in grado di suonare in maniera almeno dignitosa è importantissimo perché perché chi di noi sarebbe così sciagurato da affidare le chiavi della propria autovettura ad un meccanico che non ha la patente ma soprattutto che nel momento in cui si appresta a portarla all'interno della sua officina vi dà anche l'impressione di non saperla guidare noi ci vediamo alla prossima ciao